Ciao a tutti e bentornati. Oggi vi portiamo a Kuala Lumpur. Cosa fare a Kuala Lumpur in 48 ore? Itinerari imperdibili. Kuala Lumpur è una città che incanta con la sua fusione di modernità e tradizione. In 48 ore si può vivere un'esperienza unica esplorando le sue attrazioni più iconiche. Dalla maestosità della Petronas Tower, il simbolo della città, alla vibrante vita di strada di Bukit Bintang. Ogni angolo offre qualcosa di speciale. Per un panorama mozzafiato non perdere la Menara Tower, che regala una vista spettacolare sulla città. Non mancano le esperienze culinarie, degustare piatti deliziosi nei food market locali è un must. Ecco alcune attività che renderanno indimenticabili le tue 48 ore a Kuala Lumpur. Panoramica. È una destinazione ricca di meraviglie da scoprire. Tra le principali attrazioni spiccano le iconiche Torri Petronas e la maestosa Menara Kuala Lumpur. Le Torri Petronas sono simboli inconfondibili della città. Con i loro 452 metri di altezza furono gli edifici più alti del mondo dal 1998 al 2004. Costruiti in acciaio e vetro, rappresentano un perfetto esempio di design moderno. Le torri sono collegate da un ponte sospeso al 41esimo e 42esimo piano, il famoso Sky Bridge. Da qui i visitatori possono godere di una vista mozzafiato sulla città. Si consiglia di prenotare i biglietti in anticipo, poiché le visite sono molto richieste. Alla base delle torri si trova il Suria KLCC, un enorme centro commerciale che offre negozi di lusso, ristoranti e un parco acquatico. Curiosità. Le torri ospitano l'orchestra filarmonica della Malaisia, offrendo così un'interessante combinazione di cultura e bellezza architettonica. Menara Kuala Lumpur, conosciuta anche come la KL Tower, è una struttura e un'altra struttura iconica della città. Con i suoi 421 metri, offre una delle viste migliori panoramiche di Kuala Lumpur, dal suo osservatorio situato a 276 metri di altezza. La torre è famosa anche per il suo ristorante girevole, Atmosphere 360, che offre un'esperienza culinaria unica con una vista a 360 gradi sulla città. Prenotare un tavolo per cena qui è un'esperienza speciale, soprattutto il tramonto. Alla base della Menara Kuala Lumpur si trova un piccolo zoo e una passeggiata nella foresta, rendendo il luogo ideale anche per le famiglie. Curiosità. La torre viene utilizzata anche per eventi sportivi estremi, come il base jumping, attirando visitatori e avventurosi da tutto il mondo. Cultura e arte. Kuala Lumpur vanta una scena culturale vivace e diversificata, con musei affascinanti e templi storici che riflettono la ricca eredità multiculturale della città. Il Museo Nazionale di Kuala Lumpur è un'istituzione imperdibile per chiunque desideri conoscere la storia e la cultura della Malesia. Situato in Jalan da Mansara, il museo ospita una vasta collezione di artefatti storici, dalle antiche armi malesi ai vestiti tradizionali alle ceramiche. Le mostre sono ben organizzate, con sezioni dedicate alla preistoria, all'epoca coloniale e ai tempi moderni. I visitatori possono anche ammirare i bellissimi diorami che rappresentano scene storiche importanti. Inoltre, il museo offre vari programmi educativi e workshop per tutte le età, rendendolo un luogo ideale per una visita didattica e piacevole. Il Tempio di Tianhu è uno dei tempi più grandi antichi del sud-est asiatico, dedicato alla Dea del Mare. Situato sulla Robson Hill, offre viste spettacolari sulla città e un'atmosfera di pace e tranquillità. I visitatori vengono accolti da splendidi giardini e statue colorate. All'interno del Tempio, l'architettura combinata di elementi cinesi con decorazioni e sculture intricate è davvero mozzafiato. Il Tempio è un importante centro culturale per la comunità cinese di Kuala Lumpur, ospitando numerosi festival e celebrazioni durante l'anno. Tra i momenti salienti vi è il rito della preghiera a cui molti visitatori partecipano per ottenere benedizioni. Shopping e gastronomia. Kuala Lumpur offre molti posti interessanti per fare shopping e assaporare piatti deliziosi. Tra i luoghi più popolari ci sono il Mercato Centrale e Jalan Allor. Mercato Centrale. Il Mercato Centrale è un luogo vivace e colorato, ideale per immersersi nella cultura locale. Si trova nel cuore della città ed è famoso per la sua vasta gamma di souvenir e artigianato. Qui si possono trovare batik, sculture in legno, gioielli, tessuti e opere d'arte locali. La struttura del mercato è un'opera d'arte in sé, con la sua architettura coloniale ben preservata. Inoltre ci sono numerosi stand di street food che offrono piatti locali tipici malesi come nasi lemak, satai e dolci locali. Per chi desidera portare a casa un pezzo di malaisia, il Mercato Centrale è una tappa obbligatoria. Jalan Allor è il paradiso di Bongustai. Questa famosa strada situata nel quartiere di Bukit Bintang è inomata per la sua vibrante scena gastronomica. Al calare del sole le bancarelle di cibo si aprono e la strada si riempie di profumi invitanti, luci e suoni. Qui si può gustare una grande varietà di cibi, dai piatti cinesi come in adulto saltati nel wok ai satai e frutti di mare alla griglia. È consigliato fare attenzione ai prezzi e negoziare se necessario. Inoltre per una vera esperienza locale e non dimenticare di assaggiare alcune specialità come il durian e i dessert a base di cocco. Jalan Allor offre un'esperienza culinaria unica con opzioni per tutti i gusti e budget. Parchi e natura. Kuala Lumpur è ricca di meraviglie naturali dove i visitatori possono immergersi nella bellezza della natura e trovare momenti di pace lontano dal trambusto della città. Dai parchi verdi ai siti storici unici nella regione c'è qualcosa per tutti. Grotte di Batù. Le grotte di Batù sono uno dei luoghi naturali più visitati nei dintorni di Kuala Lumpur. Si trovano a circa 13 chilometri a nord della città. Questo complesso di grotte calcare ospita templi hindù e statui imponenti, tra cui una statua dorata di Murugan, alta 42,7 metri. Per raggiungere le grotte bisogna salire una scalinata di 272 gradini, un'impresa resa interessante dai molti macachi che popolano la zona. Le grotte di Batù offrono anche la possibilità di esplorare caverne più nascoste, ideale per gli amanti dell'avventura. Le grotte di Batù sono particolarmente affollate durante il festival Taipusam, quando migliaia di pellegrini hindù visitano il sito per partecipare a rituali e celebrazioni sacre. La combinazione di natura, cultura e spiritualità rende questo luogo imperdibile. Esplorare la città Esplorare la città, Kuala Lumpur, è una città vibrante e cosmopolita, famosa per i suoi grattacieli iconici, gli ampi parchi e la vivacità culturale. Una delle principali attrazioni da non perdere è il vasto KLCC Park. Situato nel cuore della città è un oasi verde di 50 acri, è perfetto per passeggiate rilassanti e attività all'aperto. Tra i suoi punti salienti ci sono il lago artificiale Symphony Lake, con le sue spettacolari fontane d'acqua danzanti e il percorso jogging di 1,3 km circondato da un sueggiante giardino tropicale. I visitatori possono anche godere della vista mozzafiato delle torri Petronas che svettano sopra il parco. Il KLCC Park è l'ideale per le famiglie, grazie anche all'ampia area giochi per bambini. Non perdere lo spettacolo di luci serale nell'area del lago. Attività pomeridiane. Nel pomeriggio Kuala Lumpur offre una varietà di attività interessanti perfette per ogni tipo di viaggiatore. Dall'esplorare il mondo sottomarino all'acquario di Kuala Lumpur, al visita nella storica piazza Merdeca e c'è molto da fare e vedere. L'acquario. Situato nel cuore della città è una delle attrazioni più affascinanti. Questo enorme acquario ospita oltre 5.000 specie marine diverse provenienti da tutto il mondo. È un luogo ideale per le famiglie e per chi ama gli animali. Il tunnel sottomarino lungo 90 metri offre una vista incredibile del mondo marino con squali, razze e molte altre creature che ruotano sopra e intorno a te. La struttura è ben mantenuta e le sue esposizioni educative forniscono informazioni interessanti sugli ecosistemi marini. Non dimenticare di assistere alle sessioni di alimentazione programmata dove puoi vedere da vicino come vengono nutriti gli squali e le altre creature marine. L'acquario di Kuala Lumpur è un'esperienza educativa e divertente che non vi deluderà. Piazza Verdeca. È un luogo pieno di importanza storica e culturale. Questo vasto spazio aperto è stato il sito della dichiarazione di indipendenza della Malese nel 1957. Oggi è un luogo popolare sia per i cittadini che per i turisti. La piazza è circondata da edifici coloniali ben conservati, come il Sultan Abdul Samad Belding, un esempio impressionante di architettura amoresca. Accanto c'è la storica Royal Selangor Club, un punto di ritrovo tradizionale. Qui trovi l'iconico palo della bandiera alta 100 metri, uno dei più alti al mondo. Passeggiare per la piazza offre un'esperienza immersiva nel passato della Malese, con molte panchine e aree verdi, dove per rilassarti puoi rilassarti e ammirare l'architettura circostante. Vita notturna. La vita notturna di Kuala Lumpur è vivace e variegata. I viaggiatori possono trovare una vasta gamma di opzioni per divertirsi. Nel quartiere di Bukit Bintang, cuore pulsante della città, si possono trovare numerosi bar, club e ristoranti. È un luogo perfetto per una serata indimenticabile. Per chi desidera una vista spettacolare sulla città, i rooftop bars sono un'ottima scelta. Tra i più popolari c'è l'Henry Lounge Bar, situato su una piattaforma di atterraggio di elicotteri, che offre una vista panoramica a 360 gradi. Gli amanti della musica dal vivo e delle scene hipster, possono esplorare i bar e club di Changkat Bukit Bintang. Scusate la mia pronuncia. Questo è il posto ideale per godersi band locali e DJ set. Pretaling Street, nel quartiere di Chinatown, offre una serata più rilassata. Qui si può cenare nei ristoranti tipici malesi e fare shopping nei mercati notturni. È il luogo perfetto per chi cerca un'atmosfera più autentica. Gli appassionati di club e disco possono optare per locali come Zook Club, uno dei più famosi della città. Così, con diverse sale di musica di ogni genere, garantisce una notte di divertimento per tutti i gusti. Kuala Lumpur non delude mai chi cerca una notte vivace. Le opzioni sono infinite, dalle moderne discoteche ai tranquilli bar panoramici. C'è sempre qualcosa per ogni tipo di viaggiatore. Ora passiamo alle domande frequenti. Scoprite alcune delle migliori attrazioni e attività da fare a Kuala Lumpur in 48 ore. Questo vi aiuterà a pianificare un viaggio rapido, ma memorabile, della vivace capitale della Malesia. Quali sono le attrazioni perdibili per chi ha solo 48 ore a Kuala Lumpur? Le torri Petronas sono un must per ogni visitatore. Il suria KLCC ai piedi delle torri offre uno shopping di classe mondiale. Altra attrazione da non perdere è Batu Kaves, con il suo tempio hindu e le sue imponenti grotti calcare. 2. Quali esperienze uniche si possono fare a Kuala Lumpur in una visita di due giorni? Passeggiare nel mercato notturno di Jalan Alor offre un assaggio autentico della cucina locale. Un'altra esperienza unica è visitare il tempio di Tianhu, uno dei più grandi tempi cinesi del sud-est asiatico. 3. Cosa consiglieresti di fare la sera a Kuala Lumpur durante un breve soggiorno? Visitate Bukit Bintang per la vita notturna vibrante e ristoranti di tendenza. La cena di Almenara a Kuala Lumpur, torre KL, offre una vista panoramica della città illuminata durante la sera. 4. Quali sono le migliori attività da non perdere negli intorni di Kuala Lumpur se si dispone di poco tempo? Esplorate il parco dei Lake Garden, una grande area verde perfetta per una passeggiata rilassante. Non dimenticate il parco degli uccelli di Kuala Lumpur, uno dei più grandi aviari chiusi dal mondo. 5. Quali itinerario suggeriresti per sfruttare al meglio un weekend a Kuala Lumpur? Il primo giorno visitate le Todi Petronas e Batu Kaves al mattino e esplorate Chinatown o Bukit Bintang nel pomeriggio. Il secondo giorno dedicarsi ai musei come l'Islamic Art Museum e passeggiare nel Lake Garden. 6. Come posso organizzare una visita effettiva dei principali punti di interesse di Kuala Lumpur in due giorni? 6. Prenotate biglietti anticipatamente per le torri Petronas per evitare code. 7. Utilizzate mezzi di trasporto pubblici come la metropolitana, l'RT e i taxi per spostamenti rapidi tra le attrazioni. Questo è tutto, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima! Ciao ciao!